a proposito di atteggiamento puberale perché la responsabilità dell'intellettuale non si limita al piano dell'intenzione chiaro che cacciare con lui anche molti autorevoli intellettuali cercano di porre un problema filosofico, giuridico ma la responsabilità non può limitarsi sul piano delle intenzioni perché implica delle conseguenze le parole hanno delle conseguenze vedere che nei post di Giorgia Meloni cacciare è evocato sistematicamente come un punto di riferimento culturale fa impressione bisogna pesare le parole ecco la vita adulta diversamente dalla vita dell'adolescente dal suo inguaribile narcisismo consiste nel tener conto che le parole hanno delle conseguenze Ilaria Capua grazie a tutti